Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear the dream in the ocean? Sulla montagna, quella vicino alla piattaforma dove c'è la palla gigante Basta che ci rimbalziamo una volta ragazzi, atterriamo e il primo ombrello è fatto! Per l'ombrello numero 2 invece possiamo tranquillamente andare a quello vicino Rifugio ritirato, come vedete dove c'è lo spot delle pallette, mezzo nascosto dalla montagna C'è il secondo ombrello super super gigante, avete capito benissimo dove siamo E quindi, con una bella curvatura, ci andiamo sopra Ci rimbalziamo E ombrello numero 2, fatto! Se siete nella zona invece di Parco Pacifico, allora vi consiglio di raggiungere la piattaforma Perché qui è presente il terzo ombrello, esattamente sotto Ci rimbalziamo sopra e ombrello numero 3, fatto! Vi dico solamente ragazzi che ci sono altri ombrelli sparsi nella mappa Uno lo trovate, ogni tanto mi si bagga il coso, uno lo trovate nella montagna qua Vicino a Lande Letali, un altro lo trovate all'ingresso di Palmetto Paradisiaco Questo l'abbiamo visto, ce n'è uno anche a Laguna E molto probabilmente ce ne sarà qualcun altro in giro Comunque i primi 3 ve li ho detti, altri 3 ve li ho fatti vedere Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in live più tardi Ciao! 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 Ciao!